Il vaccino è libertà, il vaccino è libertà, il vaccino è libertà. Questo linguaggio di verità. Noi oggi abbiamo una missione paese. Questa missione paese la voglio declinare in modo molto secco e in modo molto semplice. Noi dobbiamo completare la campagna vaccinale per rendere il nostro paese di nuovo completamente libero. E' il momento della verità. E da qui, da questo palco, la nostra comunità dà un messaggio a tutto il paese. E il messaggio è molto semplice. Il vaccino è libertà. Il vaccino è libertà. Perché questa parola libertà, che è stata usata a sproposito tante, troppe volte, il vaccino è libertà di andare a scuola, il vaccino è libertà di lavorare, di guadagnare, il vaccino è libertà di incontrare gli altri, il vaccino è libertà di viaggiare, il vaccino è libertà di divertirsi, il vaccino è libertà di fare sport, il vaccino è libertà di godersi spettacoli, di godere la ripresa delle attività culturali. Chi non si vuole vaccinare è contro l'altrui libertà e non può essere premiato. E chi è ambiguo su Green Pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani. E chi è ambiguo contro i Green Pass e le vaccinazioni è contro le imprese, contro i lavoratori, è contro gli imprenditori e contro i lavoratori. È inutile che chi è ambiguo su vaccini e Green Pass poi vada a sfilare davanti alle associazioni di impresa a promettere chissà che cosa. La cosa più importante è questa. E allora noi, noi, con orgoglio, siamo il partito dei lavoratori e degli imprenditori perché noi siamo sempre stati coerenti sulla cosa più importante di oggi, cioè il vaccino è libertà. È il vaccino che è libertà.